L'energia la prende l'avversario carica, 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 e poi implode il colpo di domani. Ok? E' un'altra energia che ha avuto la voce. E' un'altra energia che ha avuto la voce. . 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 e la gamba e la gamba posteriore e la gamba e la jambi e la gamba e la gamba e la gamba Il movimento è unico e non è parata poi in rotazione, è in rotazione che sarà parso.